Sindaco, viene presentato un nuovo movimento o partito politico a Gela di cui lei fa parte. La domanda è questa, si tratta di un movimento o di un partito e chi è il leader? Si tratta di un soggetto politico, un soggetto politico che sta nascendo e si apre la fase costituente. La fase costituente che deve dar luogo a un soggetto che finalmente pensa a progetti, pensa ai bisogni e non a litigi o a posizioni. Quindi un soggetto che vedrà la sua forma completa alla fine della fase costituente, che è prevista per circa un semestre, dove alla fine uscirà fuori chi è il leader, ma il leader in realtà credo che sia ognuno di noi nel suo piccolo, ma soprattutto quello che riuscirà a dare quella impronta incisiva che serve a dare risposta al territorio. Un nuovo figura politica, un nuovo soggetto politico che vuole andare sulle azioni e uscire dalla demagogia o dalle falsetà che negli ultimi tempi in vario modo si sono viste. La sua esperienza politica è nata al suo esordio con l'immediata querelle con Grillo, che poi era il leader del movimento, grazie al quale lei appunto ha approdato a Palazzo di Città come primo cittadino. I principi si ispirano al Movimento 5 Stelle o a qualche altro partito di destra o di sinistra? No, qua i bisogni non sono di destra o di sinistra, i bisogni sono delle persone e io continuo ad operare con la stessa intensità di quei valori che sono di ognuno di noi. I valori delle persone non appartengono a partite, associazioni o movimenti, ma appartengono alla singola individualità, come anche alla sensibilità, credo che sia ognuno di noi. La cosa importante invece è trovare la possibilità di aggregare per portare avanti quei progetti condivisi. Io ricordo che il programma che è stato presentato noi lo stiamo portando avanti perché è un programma per poter dare quelle risposte ai cittadini, con difficoltà, con molta tenacia, però quello che è importante è avere chiari quali sono gli obiettivi e progetti e quindi noi stiamo spostando proprio il focus di questo nuovo soggetto politico sulle necessità. Fino a qualche anno fa, quando c'erano forse le classi, quando c'erano i vari ceti medi, parlare di partiti forse veniva più semplice. Ormai è molto più orizzontale e i bisogni sono uguali per tutti, quindi le leggi servono per tutti, quindi è l'attenzione alla persona che credo che sia la missione più importante. Sarà più semplice dialogare col Partito Democratico o con Forza Italia? No, noi dialoghiamo sempre con tutti e credo che si avrà un nuovo modo di fare politica. Io fino adesso ho sempre sentito che ci deve essere l'opposizione. Noi invece crediamo che bisogna fare la proposizione perché ogni singolo eletto deve portare avanti delle proposte per migliorare il territorio, non invece impedire che si realizzano delle attività solo e esclusivamente perché è di un segno diverso. Il mondo non è fatto da simboli e segni ma è fatto da individui che hanno dei bisogni.